Compare anche il nome della primo cittadino di Arezzo, Alessandro Ghinelli, nelle circa 2000 pagine dell'inchiesta su Coing. Intercettazioni verbali e documenti che riguardano forse solo la prima fase delle indagini sull'azienda partecipata dai 39 comuni della provincia retina di cui quello capoluogo è azionista di maggioranza. L'inchiesta cerca di far luce sulle consulenze considerate salate da parte della Procura e pagate da Coingas a Marco Cocci, professionista a retino e allo studio fiorentino Olivetti Rason per circa 440 mila euro. Alessandro Ghinelli viene registrato in una conversazione con l'assessore Alberto Merelli, quest'ultimo intercettato nella telefonata avrebbe fatto pressioni affinché il presidente del collegio dei revisori di Coingas avallasse il bilancio che conteneva appunto queste consulenze. Ai primi cinque indagati, Alberto Merelli, Sergio Saderini, l'ex presidente di Coingas, Marco Cocci, accusati di concorso impeculato, Franco Scortecci e Mara Cacioli, indagati invece per favoreggiamento e abuso d'ufficio, adesso si aggiungerebbe anche l'ome del sindaco di Arezzo che potrebbe dover rispondere anche lui di favoreggiamento. Ghinelli tramite un comunicato stampa ha commentato la notizia in merito alla sua iscrizione nel registro degli indagati è una circostanza che non mi è stata significata da alcuno, apprendo sempre tramite stampa che sarò sentito dai magistrati. Al momento non ho ricevuto alcun invito in tal senso ma colgo l'occasione per confermare la mia piena disponibilità ad essere udito. Sulla telefonata con Merelli specifica poi, leggo che il mio nome sarebbe associato ad un'intercettazione telefonica operata sul cellulare dell'assessore Merelli, ma avendo contatti telefonici quotidiani con i miei assessori, la circostanza non mi stupisce. D'altra parte, non conoscendo il contenuto dell'intercettazione, nel contesto nel quale è stata registrata, conclude Ghinelli, mi risulta difficile commentarla.